Abbiamo realizzato una doppia serata dedicata all'International Day of Italian Cousins, la giornata internazionale delle cucine italiane che si celebra appunto in questo periodo. Doppio appuntamento qui sulla riviera dei Cedri per dare un segnale di speranza, un segnale di rilancio alla ristorazione italiana, alla ristorazione calabrese, tramite appunto la ricerca dei prodotti identitari di questo territorio. E dunque il pretesto è stato quello della cucina di Pellegrino Artusi, che noi come International Association, insieme anche all'Associazione Provinciale Cuochi Cosentini, all'Unione Regionale Cuochi Calabria e anche ai cuochi, agli chef del territorio, qui in questo caso alla Bruca Resort, gli chef di questa struttura, sono riusciti a realizzare dei piatti in abbinamento poi anche alle specialità, alle eccellenze come dicevamo del territorio. E dunque un connubio perfetto per dare uno stimolo, una sollecitazione sia ai produttori che agli operatori del settore, una vicinanza, un supporto da parte delle associazioni di categoria che non mollano e cercano di rilanciare un po' anche quello che è il prodotto Calabria, il brand Calabria, attraverso un valore aggiunto che deve essere necessariamente la memoria, la memoria storica, quindi ecco perciò Pellegrino Artusi, ma anche la ricerca delle sinergie aziendali e istituzionali. Grazie. 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 Grazie.